Allora, una serata per parlare anche di anatocismo. Quali aspetti dobbiamo sottolineare di questo argomento? L'aspetto dell'anatocismo è un argomento particolare perché negli ultimi vent'anni, dopo una sentenza della Cassazione e della Sezione Uniti, ha dato una vera e propria chiave di svolta, lì dove prima le banche in giudizio pensavano di farla franca, invece da quel momento in poi un po' la giurisprudenza, un po' il legislatore è intervenuto per favorire il consumatore e le imprese che hanno in maniera, come dire, nella quale le banche hanno illegittimamente avuto somme molto ma molto cospicue. Quindi possiamo dire che è uno strumento a tutela del consumatore? Decisamente, tant'è che noi come rete consumatori e come codici in particolare assistiamo i clienti e continuiamo ad assistere il consumatore e le imprese per il loro mal tolto. Possiamo dare anche dei dati in merito a degli episodi che si sono verificati? Quanti consumatori si trovano in queste situazioni? Dunque, tenga conto che l'attività, purtroppo per vedere la legge, che prevede una prescrizione decennale, ma l'anatocismo ormai vive da 50 anni e è vissuto per 50 anni, quindi lascio immaginare quanto danaro è stato tolto dall'economia reale.